in palazzo del pegaso a tenere banco è il green pass forze politiche spaccate con il centro destra che oltre la misura attacca la campagna vaccinale in toscana mazzeo ribatte strumento fondamentale e avanti così con le vaccinazioni si svolgerà a settembre la discussione sulle modifiche statutarie della regione mazzeo bene l'accordo trovato ma non aumenti di un euro la spesa della macchina regionale avanti con il green pass il via libera del governo a lascia passare per eventi o locali al chiuso ha scatenato anche consiglieri regionali l'argomento ha riproposto lo schema parlamentare con i partiti del centro destra compatti contro la misura e le forze di centro sinistra favorevoli alla decisione di draghi a prendere posizione però sono stati anche eugenio giani e antonio mazzeo per il presidente regionale si tratta di un provvedimento che stimola la vaccinazione mentre per il numero uno dell'assemblea toscana è una scelta corretta mazzeo ha colto l'occasione anche per rivolgere un appello ai cittadini per sottoporsi alla vaccinazione sicuramente una misura di libertà offre a tutti coloro che sono vaccinati la possibilità di agire operare con anche l'opportunità di entrare in palestre vivere spettacoli essere al cinema al ristorante al chiuso perché per l'aperto sappiamo che non è necessario e conseguentemente io la vedo come da un lato uno stimola la vaccinazione perché è chiaro che chi si vaccina con il green pass ha più opportunità e dall'altro è l'espressione di una libertà che attraverso la vaccinazione si raggiunge e penso che onestamente sempre più abituandoci a convivere con la presenza di un covid che sarà sempre più ristretto nei suoi ambiti perché sempre più saranno le vaccinazioni è evidente che non si porrà nemmeno più il problema dell'uomo o della donna che non ha avuto la possibilità di vaccinarsi oggi coloro che vogliono e ragionevole hanno l'opportunità di vaccinarsi noi oggi probabilmente raggiungeremo la soglia record di 40.000 vaccinazioni in un giorno vedo molti ragazzi mi riferiscono dagli hub che arrivano giovani che anche nella prospettiva delle vacanze sono disponibili a farsi vaccinare sul momento quindi invito tutti a fare così perché più si vaccinano più lo stesso green pass diventa uno strumento di libertà. Stiamo vivendo giorni ancora molto complicati la variante delta è arrivata anche qui da noi e questo come dire provoca ancora forte preoccupazione credo che la scelta del governo sia una scelta corretta e che anzi dobbiamo valutare nelle prossime settimane se anche sui mezzi di trasporto nelle scuole sia necessario fare il green pass. Il mio appello alle cittadine e i cittadini della Toscana è quella di vaccinarsi, vaccinarsi tutti perché vaccinarsi non vuol dire difendere e tutelare solo se stessi ma vuol dire tutelare tutti gli altri, tutti i cittadini e questa è una scelta importante. Io mi auguro che ciascuno di noi possa vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Noi siamo pronti, l'avete visto in questi giorni, più dosi ci venivano date e più noi siamo in grado di vaccinare e questo è lo strumento migliore per provare ad uscire da questa terribile pandemia. Poi l'appello è semplice in queste vacanze, siamo alla fine dei lavori consigliari, ci aspetta davanti un'estate, un'estate in cui c'è voglia di socialità però un appello è lancio alle cittadine e i cittadini toscani e di rispettare le poche regole che ci siamo dati. Parole in sintonia con quelle espresse da Stefano Scaramelli, per il consigliere di Italia Viva è uno strumento fondamentale per sconfiggere il virus. Irene Galletti del Movimento 5 Stelle invece ha voluto sottolinare gli aggiustamenti fatti dal governo sul dispositivo finale, mettendo comunque in evidenza l'esigenza di migliorare i processi della campagna vaccinale sul territorio toscano. Noi siamo favorevoli, lo abbiamo proposto, siamo convinti che il Green Pass sia una misura fondamentale per mettere in sicurezza i cittadini toscani e italiani, per dare garanzia alle attività economiche di bar, di ristorazione, del turismo, di continuare a lavorare in maniera ininterrotta. Chi fa impresa vuole lavorare, non vuole vivere di sussidi, vuole avere l'opportunità di lavorare in sicurezza, perché lo dobbiamo ai cittadini toscani, agli italiani e lo dobbiamo perché così facendo sono anche aumentate il numero delle vaccinazioni, è positivo. Noi abbiamo promosso questa battaglia, l'abbiamo difesa nei banchi del Consiglio regionale e ne siamo fortemente convinti che possa aiutare a salvare tante vite e soprattutto a mettere una barriera forte alla diffusione del virus che ancora non è terminato. È stato importante rimodulare l'utilizzo del Green Pass così come è stato rivisto dal Governo centrale, sottolineo però che perché questo Green Pass possa essere uno strumento di sicurezza e non di limitazione per le persone, deve essere fondamentale che le regioni mettano a disposizione la possibilità di vaccinarsi per tutte le persone, per tutti coloro che lo vogliono e devo dire che da questo punto di vista ci sono stati molti intoppi in Toscana per quanto riguarda l'accesso alle vaccinazioni e questo quindi ha creato una discrepanza in pratica tra quella che è la volontà di molte persone e quello che in realtà è stata la condizione in cui ci siamo trovati. Come prevedibile, la misura non ha riscontrato i favori tra i banchi del centro-destra. Francesco Torzelli, i fratelli d'Italia, ha messo in risalto la necessità di incentivare le vaccinazioni piuttosto che stabilire obblighi per usufruire dei servizi. Marco Landi della Lega ha criticato la formulazione del Green Pass, accusando poi la Toscana di continuare a sbagliare sulla campagna vaccinale. Posizione intermedia, infine, quella espressa da Marco Stella. Per il consigliere di Forza Italia, mettere obblighi è sbagliata a prescindere, però se il Green Pass consentisse di riportare la vita alla normalità, per esempio con capenza piena in teatri, cinema e stadi, allora avrebbe un senso. La nostra posizione è una posizione di contrarietà e provo a spiegarla non da medico, perché non sono un medico, ma facendo quello che sono abituato a fare quando ascolto una presa di posizione come questa, cioè quella di usare la logica. La logica ci dice che l'unico punto su cui tutti i virologi concordano è che la vaccinazione non ferma la veicolazione del virus, quindi il vaccino non ferma la circolazione del virus, ma limita gli effetti della malattia. Cioè se tu sei vaccinato puoi comunque trasmettere il virus, ma hai meno probabilità di contrarre il Covid-19 in maniera forte, quindi di finire in ospedale, di intasare le terapie intensive o di arrivare alla morte. Quindi se questi sono i dati, noi abbiamo bisogno in Italia di fare una cosa semplicissima, cioè di incentivare, di pregare, di spingere, di convincere a vaccinarsi tutti coloro che qualora contraessero la malattia hanno un rischio oggettivo di andare a intasare le terapie intensive, finire in ospedale o arrivare alla morte. E i dati ci dicono che chi è in questa condizione sono gli over 60, perché chi ha tra 40 anni e 60 ha lo 0,2% di possibilità di contrarre la malattia in maniera seria, chi ha meno di 40 anni ha lo 0% di possibilità di morire. Quindi noi dobbiamo spingere a vaccinarsi, dobbiamo incentivare i vaccini, dobbiamo fare campagne mirate a convincere chi ha più di 60 anni a vaccinarsi. Cosa fa il Green Pass? Il Green Pass fa l'esatto contrario. La posizione della Lega sul Green Pass è che così com'è non va bene, va sicuramente rivisto, in particolar modo dobbiamo tener conto in Toscana del fatto che noi siamo comunque sempre l'ultima regione tra le 20 d'Italia per somministrazioni di vaccino effettuate a ciclo completo, quindi le due dosi e soprattutto siamo sempre nelle ultime posizioni per quanto riguarda le dosi consegnate e le dosi somministrate. Quindi serve sicuramente una spinta in più sulla campagna vaccinale in Toscana, come purtroppo abbiamo vissuto in questi mesi, la Toscana è sempre rimasta vincolata da quell'errore iniziale di non vaccinare da subito i più fragili e gli ultranziani. Il Green Pass così com'è non va bene, va sicuramente rivisto, non possiamo essere favorevoli a questa disposizione così com'è. Noi abbiamo sempre sostenuto che dal momento in cui uno si vaccina, quel vaccino deve portare anche alcuni benefici. Ci sono i benefici personali, i benefici che riguardano la collettività, ma quel beneficio però deve essere anche un beneficio che ti consente di andare in alcuni luoghi. Naturalmente noi siamo fermamente contrari al Green Pass per entrare nei bar e nei ristoranti, anche perché ci siamo posti un tema. Io vado, sono vaccinato, ho il Green Pass, vado a mangiare, ma dovrei avere anche la certezza che camerieri, cuochi, pizzaioli, ho la stessa certezza, devono avere il Green Pass, invece così non è. Non so se sono vaccinati e non so nemmeno se sono tamponati. Però quello strumento può essere uno strumento utile per esempio per entrare nei teatri, per entrare nei cinema, cioè per garantire a quei luoghi che sono stati chiusi fino ad oggi di avere una capienza piena. Guardate, gli aerei entri o con il Green Pass o con il tampone ma lo fai a capienza piena. Non si capisce perché se uno è tamponato nel Green Pass può andare a un teatro a capienza piena, può tornare al cinema a capienza piena, può andare a degli eventi sportivi a capienza piena. Allora, sì, questo ha un senso. Naturalmente rimane per noi la libertà dell'individuo di scegliere, con la consapevolezza che dove finisce la tua libertà inizia quella dell'altro. Se uno non si vuole vaccinare ha tutto il diritto di non vaccinarsi, ma naturalmente deve avere anche delle restrizioni alla sua circolazione, perché più ci vacciniamo, lo dimostrano i dati che abbiamo di fronte oggi, più facile sarà tornare ad una vita normale, il che consentirà di tornare alle attività commerciali a vivere e poi rimane l'altro grande tema che è quello della scuola. Noi auspichiamo davvero che non ci sia più la didattica a distanza, per questo siamo favorevoli anche alla vaccinazione per i professori, per garantire ai ragazzi di tornare in aula e di tornare in sicurezza. Rimandata a settembre. Si svolgerà alla riapertura dei lavori del Consiglio regionale la discussione sulla modifica dello Statuto della Regione Toscana. Nella conferenza di programmazione dei lavori è stato deciso il rinvio. Il tema è stato dibattuto per settimane, uscendo presto dal perimetro di competenza e trasformandosi in una discussione politica, che ha rischiato di far spaccare la maggioranza, con Italia Viva molto critica per l'accordo raggiunto per aumentare di un posto il numero dei sottosegretari e anche quello dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Antonio Mazzeo, presidente dell'Assemblea Toscana, si è detto concorde su quanto elaborato da alcune forze politiche, PD da una parte e Lega e Forza Italia dall'altra, sottolineando però una priorità. Non ci sia alcun aumento di costi. Non è tempo di polemiche, ho letto anche io i giornali, è tempo di dare risposte ai cittadini. Le forze politiche in queste settimane si sono confrontate e il collega Stella ha chiesto nella conferenza dei capigruppo di mettere all'ordine del giorno, così come previsto dall'articolo 42 del regolamento, la discussione sullo statuto perché ferma da più di tre mesi in commissione. Vista la mole di lavoro che abbiamo in questi giorni in Consiglio, ho chiesto ed hanno accettato tutti i capigruppo, di poter posticipare a inizio di settembre, al primo Consiglio utile, la discussione sullo statuto. Io nel merito penso che l'accordo che le forze politiche stanno trovando, cioè quello di fare un sottosegretario, di allargare l'ufficio di presidenza, sia un accordo giusto e importante. Giusto perché oggi abbiamo bisogno di seguire il PNRR con più forza, serve una struttura dedicata, serve qualcuno che se ne occupi in prima persona. E poi perché in questi mesi mi sono reso conto, anche penso all'ampliamento delle commissioni, che sia importante che ci sia buona politica, più politica. E tutto questo però con un impegno. Un impegno ho chiesto alle varie forze politiche, che non ci deve essere nessun aumento di costo. Esattamente come abbiamo fatto per il passaggio da 4 a 5 commissioni consigliari.